Mi sono lasciato con la mia ragazza, ora la faccio finita. E bastara questa frase che sarebbe stata pronunciata da un giovane residente nel quartiere di via 25 Aprile a Sulmona per allarmare la vicina di casa che nella prima serata di ieri intorno alle 22 ha allertato i carabinieri con il numero di emergenza 112 giunti sul posto assieme all'ambulanza del 118. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme poiché il giovane non ha posto in essere all'estremo gesto ne aveva intenzione di farlo, ma era stato colto da una crisi sentimentale e affettiva. L'atteggiamento di attenzione e prossimità della donna comunque fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. I militari hanno tranquillizzato la diretta interessata, mentre il giovane a titolo del tutto precazionale è stato accompagnato nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino per gli accertamenti del caso. L'episodio non è passato inosservato nel quartiere attenzionato recentemente per altri episodi e per altri fenomeni.